Amiche e amici di HuffStore, ben ritrovati! Quest'oggi voglio parlarvi di un integratore a me molto caro che è stato scoperto relativamente da poco tempo ma a mio modo di vedere se ne parla ancora generalmente troppo poco ovvero l'acqua di cocco L'acqua di cocco è un integratore da non confondersi con il suo cugino, il latte di cocco che è ottenuto dalla polpa del celebre frutto della palma da cocco bensì l'acqua di cocco viene direttamente prelevata dalle noci di cocco più verdi, quindi più giovani tramite la liofilizzazione della stessa Questa precisazione andava fatta perché l'acqua di cocco, a differenza del latte, è povera di grassi e priva di zuccheri aggiunti L'acqua di cocco oltretutto ha un potere idratante maggiore dell'acqua quindi questo è un fattore da tenere in considerazione nelle giornate estive è un piacere, nel senso che il suo gusto è dolce ma non troppo e quindi d'estate diciamo così dal meglio di sé Naturalmente è un prodotto anche consigliatissimo per tutti gli sportivi quindi tutte le persone che praticano attività fisica essendo una bevanda ricca di vitamine e sali minerali quindi utile anche per reintegrare le energie spese durante un allenamento Anche per questo video è tutto, come sempre vi rimando al nostro sito www.yavstore.com Restate sintonizzati sul nostro blog e sul nostro canale al prossimo video